Alla Bolanese per 1-0 il particolarissimo recupero di prima categoria a Girone e giocatosi ieri sera al Bertolotti di Bolano. Il match con il Pegazzano era stato infatti sospeso al decimo della ripresa a causa della nebbia e in virtù del regolamento vigente in tale categoria che richiedeva la disputa della parte rimanente e basta dell'incontro ci si è dati appuntamento allora alle 8 serali per giocare 35 minuti quelli che restavano appunto da disputarsi e la spuntata con una retta al 73esimo del terzino destro Michael Billi appunto la squadra giallorossa per la quale questo potrebbe essere un successo molto importante ai fini della permanenza nella categoria si trattava di fatti del confronto tra due squadre coinvolte al momento almeno in quella che nel raggruppamento è la zona play-out. Abbiamo fatto una ripartenza su calcio d'angolo, la punta è arrivata incontro, mi ha dato la palla a lungo linea sono andato a puntare il difensore centrale che era l'ultimo uomo, con un tunnel me lo sono liberato e l'ho messa sul secondo palo. Partita molto importante per noi, tre punti fondamentali dopo comunque un periodo abbastanza negativo ci siamo ripresi e abbiamo affrontato la partita nel modo giusto anche se erano pochi minuti la fiducia era tanta per i tre punti e la posizione classifica ora si rimette un po' meglio e niente da dire, è stata una pittoria veramente fondamentale.